Salve a tutti sono Mirko Miceli questo è il mio canale youtube se vi piace il video lasciate un like iscrivetevi al canale sto cercando di fare nuovi video su Call of Duty mobile adesso vi lascio un custom multiplier buona visione Sniper eliminato Sniper eliminato Sniper 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 ricettavosi Hella Hella Sniper 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 Grazie a tutti